Chiusura confermata e cassa integrazione straordinaria all'orizzonte, ma ancora troppe incertezze sulle opportunità di ricollocazione per i sette dipendenti piacentini. Ecco perché domani i sette lavoratori del negozio Troni di Via Farnesiana sciopereranno per partecipare a un'assemblea con i colleghi di tutta Italia che si terrà a Milano. Il punto vendita resterà quindi chiuso per tutta la giornata. Il gruppo controllante DPS ha aperto nei giorni scorsi una procedura per la riduzione del personale. Entro fine marzo, nelle intenzioni della dirigenza, sarà risolto il rapporto di lavoro con 396 degli attuali 903 dipendenti a livello nazionale. Quello di Piacenza rientra nei 10 punti vendita che saranno chiusi in tutta Italia, mentre in altri 49 sarà attuata la riduzione del personale. Le organizzazioni sindacali, nel corso degli incontri, hanno espresso forte preoccupazione per un esubero così consistente, chiedendo alla dirigenza di ridurlo con l'obiettivo di mantenere il più possibile i livelli occupazionali esistenti. L'azienda si è dichiarata disponibile all'utilizzo della cassa integrazione straordinaria per i negozi in chiusura e il contratto di solidarietà per il resto della rete. Quindi anche a Piacenza i sette lavoratori dovrebbero poter contare sugli ammortizzatori sociali, ma non c'è più alcuna speranza di evitare la chiusura del negozio.